Il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica augura a tutti voi un buon cammino associativo, capace di contribuire a formare persone mature e responsabili a servizio della società di cui vivono. Il MLAQ, con la formazione continua e il principio di traduzione sociale della Chiesa e attraverso le numerose iniziative che stiamo per mostrarvi nel video, si impegna costantemente ad educare al senso e al valore cristiano del lavoro, per raggiungere una maturità di fede che faccia vivere l'ambito lavorativo a cui sono legati i significativi impatti sociali come una dimensione fondamentale attraverso cui migliorare se stessi e la società di tutta. Grazie per la visione! Auspicando l'incontro personale con Gesù Cristo, capace di dare pieno senso al proprio impegno, il MLAQ vuole aiutare la Chiesa a leggere i segni dei tempi, a comprendere le trasformazioni sorprendentemente veloci del mondo del lavoro per riuscire a fare proprie le sofferenze di chi non ha un lavoro, di chi è sfruttato in rapporti disumani, di chi è emaginato e non adeguatamente valorizzato, a donare loro la speranza che viene dal Cristo e nel contempo educare ad una corretta cultura del lavoro, indicando orizzonti etici di riferimento entro cui costruire un mondo del lavoro in cui possa trionfare l'amore e le justizie. In questo non siamo soli, San Giuseppe, modello e patrono dei lavoratori, non ci farà mancare la sua benevola protezione.